Non so se lei sa che in classe di Chiara è capitata una bambina araba, musulmana. Tesoro, quella bambina è in classe con te. Sì, come si chiama? Samia. Ciao, io sono la mamma di Chiara. Le due bambine sono in classe insieme. Ieri due mamme hanno chiesto un nulla osta per i propri figli. Mi prometti che la possiamo tutta la mia spettura in classe. Non ti permettere di toccarla, capito? Devi starle lontano!